Il giorno è qua Ma oggi è mezzogiorno, anzi 11.55 Bella, la coronapia come fa? Oh no! Ma sono senza parole, Paola è chiara! Ciao! Ma come va? Sono sorpresa! Ma io sono sorpresa! Io ve lo giuro, non so niente, proprio ieri ho chiamato in redazione e ho detto Ma scusate, ma non potete farmi un regalo una volta nella vita? Andiamo più avanti che abbiamo delle belle luci. Noi abbiamo visto che tutti i giorni dicevi questa cosa, tutti i giorni, per me è furore proprio la mia canzone Io penso che quest'estate tutti noi balleremo da adesso in poi Respiro tutto, senza fermarci più Ballare ancora, ballare come se fosse l'ultima Ma se fosse l'ultima Questa mi piace da morire Pantone, furore, con te Pantone, con te Proviamola, dai! Siete fantastiche, cioè Ma voi vi immaginavate tornare a Sanremo e di avere tutto questo successo? Grazie! Siete stati fedeli al vostro... Dai, che bello! Poi noi piace, poi questo set è meraviglioso Allora, probabilmente vi è capitato di vedere questa remissione Noi viviamo ormai con la vostra, con la vostra canzone Noi, perché...